Il principe William e Kate Middleton potrebbero accogliere la principessa Eugenia o la principessa Beatrice come loro vicine a Kensington Palace, ha detto a Express.co.uk Marlene Koenig, una storica reale.Il duca di Cambridge questa settimana ha ammesso di aver spesso nascosto lo stress e le tensioni della giornata durante il suo periodo di lavoro per L.I.Standler Ambulance. Ha detto che spesso evitava di mettere un fardello su sua moglie, Kate, duchessa di Cambridge e la loro giovane famiglia. In particolare, ha notato come il flusso costante di chiamate da parte dei bisognosi durante le condizioni più stressanti rendesse il lavoro estremamente difficile.Parlando ai primi soccorritori, ha detto, ricordo la pressione di partecipare alle chiamate nelle condizioni più stressanti. A volte con conclusioni tragiche. Ricordo il senso di solidarietà con la mia squadra, il fatto di essere uniti per fare il meglio che potevamo e condividendo il peso della responsabilità. Ricordo anche di essere tornato a casa con lo stress e le fatiche della giornata che pesavano sulla mia mente e di voler evitare di gravare la mia famiglia con ciò che avevo visto. Quando ho parlato con i paramedici. Will Eclvi all'inizio di questo mese, mi ha ricordato la complessità di parlare con la famiglia e gli amici del lavoro.Ha lasciato il suo lavoro di aeroambulanza nel 2017 per concentrarsi sullo svolgimento dei doveri reali al fianco di Kate a tempo pieno, una mossa verso i loro eventuali ruoli di re e regina consorte. La coppia ha trascorso alcune settimane intense con la Royal Variety Performance e una serie di eventi del Remembrance Day. In coppia con l'altro lavoro che hanno svolto, come i primi Premier Short Prize il mese scorso. Attualmente risiedono a Kensington Palace nell'appartamento 1A, probabilmente uno degli unici spazi in cui possono godersi del tempo tranquillo. Questo perché i loro vicini nell'appartamento 1, il principe Riccardo, il duca di Gloucester e sua moglie Brigette, si sono trasferiti nel 2019 per ridimensionarsi, secondo i rapporti.